E' sempre più fuga dall'artigianato. In Italia continua a scendere il numero complessivo degli artigiani, intesi come titolari, soci o collaboratori familiari, che svolgono un'attività lavorativa prevalentemente manuale. Nel 2012 erano poco meno di 1.867.000 unità, nel 2023 siamo a quota 1.457.000, pari almeno 22%, come dimostra un'elaborazione effettuata dall'Ufficio Studi della CGA di Mestre su dati dell'Inps e di Infocamere Movimprese. A Cremona la situazione non è differente. Si è passati dalle 12.859 imprese del 2012 alle 10.110 del 2022, fino alle 9.575 dello scorso anno, una perdita di 3.284 aziende. Negli ultimi 11 anni si sono perse 410.000 imprese, che vuol dire 410.000 famiglie che si sono ritrovate con una ditta, un'impresa artigianale che è venuta a mancare, magari dopo tanti anni di tradizione familiare. La proiezione invece sul nostro territorio, su Cremona? Si rispecchia in quello nazionale, perché l'anno scorso abbiamo perso 3.200 e passa attività artigianali. Fattori economici, poi c'è stato il Covid e anche il mancato ricambio generazionale. Non ci sono più i figli che seguono i padri e anche l'inverno demografico, quindi ci sono meno ragazzi che vogliono intraprendere l'attività artigianale. Alcuni settori mostrano però segnali positivi. Ci sono i settori del benessere, della cura alla persona, dell'informatica, con tutto quello che riguarda la creazione dei siti web, di chi segue i profili social. Il settore della gliuteria, attualmente a Cremona ci sono all'incirca 190 botteghe di gliuteria. Nel 92 eravamo in 60, quindi implementano le attività artigianali, ma non sono sicuramente sufficienti per superire le chiusure delle attività artigianali tradizionali. Senza un cambio di rotta, non è da escludere che entro una decina d'anni sarà molto difficile trovare un idraulico, un fabbro, un elettricista o uno serramentista per la casa.